Benvenuto a Pasquale Acurzio, candidato a sindaco alle prossime elezioni comunali al comune di Formicola con la lista solo per Formicola. Benvenuto. Grazie. Lei ritorna a candidarsi dopo un po' di anni, questa volta sindaco. Perché? Beh, perché? Perché sono stato scelto ancora una volta da dei cittadini formicolani che hanno voglia di fare, di mettersi a disposizione per il paese, per il bene comune e per la pubblica utilità. La sua lista giovane, nuova, per la prima volta, no? È una lista composta per la prima volta oppure ci sono già persone che hanno fatto politica. Diciamo che la lista è molto eterogenea, ma è una lista giovane e diversamente giovani come me, tra le altre cose. Hanno scelto di farsi guidare per la mia esperienza ventennale come amministratore. Ci sono un po' varie professionalità all'interno, no? Sì, ci sono varie professionalità, ma tutte con competenza elevatissima, ognuno per il proprio settore, nel campo del sociale, dell'urbanistica e tanti altri temi che interesseranno sicuramente al paese. C'è un tema interessante invece che leggevo nel programma, per lo spopolamento ha un progetto recuperando immobili a prezzo calmerato. Ci spieghi un po' meglio questo? È un progetto integrato che verrà sviluppato con il presupposto del consorzio pubblico privato. L'ente si preoccuperà di formulare un elenco, ovviamente attraverso una manifestazione di interesse del cittadino che mette a disposizione dell'ente un proprio immobile. Lo porteremo in altri comuni, soprattutto nei comuni limitrofi oppure nella città. La prima connotazione urbana che ha la formazione di città, Caserta, Santa Maria Capovedere, la stessa Capo, Aversa, per far sì che a Formicola ci possa essere un innesto che riesce a garantire un equilibrio tra l'impianto urbanistico e la consistenza demografica. Il nostro paese purtroppo ha oggi più di 950 vani in più a disposizione, quindi potrebbe tranquillamente ospitare 3.000 abitanti. Invece ne conta più di 1.000, poco più di 1.000. Che cosa intende fare invece per la sicurezza anche alla luce di questi numerosi furti che stanno registrando in quella zona? Non solo, anche nel lato casertano in genere stanno avvenendo. Qui il tema va un po' ben oltre quello che potrebbe essere il compito istituzionale di un'amministrazione o di un sindaco. Mi affido a quello che è il compito istituzionale dell'autorità giudiziaria, mettendo a disposizione dell'autorità giudiziaria stessa ogni mezzo come un potenziamento della videosorveglianza. Fu mio il primo progetto a Formicola di videosorveglianza e data anche la connotazione urbana di Formicola feci un progetto che riusciva a videosorvegliare le porte principali del paese, gli ingressi del paese. Sto pensando anche a uno sviluppo sempre intorno alla videosorveglianza dell'utilizzo di un drone. Poi vediamo se riusciamo ad affidare a un'associazione, a un volontariato per integrare proprio la sicurezza. Lei scende in campo ovviamente perché avrà molti progetti. Ce ne dica almeno uno che lo ritiene più importante e soprattutto che abbia priorità rispetto agli altri? Beh, diciamo che il più importante dal punto di vista proprio per la ripresa del paese, come dicevo prima, è il ripopolamento. Perché credo in questa opportunità essenziale, quasi unica. L'amministrazione uscente si è preoccupata di costruire nuove scuole, dal punto di vista della sicurezza è incomiabile. Ero io l'assessore all'urbanistica e all'edilizia scolastica quando attraverso l'opportunità di abbattere e ricostruire scuole per renderle più sicure presentai il primo progetto nel 2015, finanziato nel 2018. Però diciamo che è importantissimo tenere conto del fatto che se non vi sono bambini non ci saranno scuole. Quindi il problema è sempre lo stesso, è un cane che si morde la coda. La ripresa passa attraverso il ripopolamento, è essenziale. Pochissimi secondi se vuole lanciare un messaggio ai suoi elettori. Carissimi elettori formicolani, io in qualità di candidato sindaco di questa lista mi onoro di presentare al paese una compagine politica che sicuramente saprà fare bene per Formicola. Vi chiedo non un sacrificio, ma un'idea precisa. Per una sola volta fatelo solo per Formicola. Bene, il nostro incontro politico per le elezioni comunali dell'8 giugno termina qui. Grazie al nostro ospite. Alla prossima. Sigla!